Il Varese è ufficialmente iscritto in Serie D. Un proforma che ufficializza l'ovvio, visto che la presenza di Biancorossi non era certamente in dubbio, la Covisod l'ha confermata. Delle 168 venti di rito ci sono state però sei bocciature, ragion per cui l'organico dovrà essere ancora definito. La matrice Rieti è avanzata a formale rinuncia, a Rotonda non ha fatto prevenire la domanda, mentre Alessandria e Monteprodeco non l'hanno validata. La Covisod ha invece bocciato a Olbi e Chieti. Se ai sardi manca tutta la documentazione, gli abruzzesi hanno più chance per completarlo e perfezionare l'iscrizione entro il 22 luglio. L'interesse del Varese si rivolge quindi ora ai gironi. Società e piazza gradirebbero la collocazione nel girone A insieme a Piemontesi e Liguri, ma ci potrebbe essere lo Spauracchio Piacenza. Nel girone B ci sarebbe invece il rischio di affrontare le corazzate Desenzano e Propalazzolo, oltre all'insidiosissima Varesina. Dal 25 luglio comunque si dovrebbe conoscere l'organico completo della Serie D e potrà dunque partire il consueto countdown per scoprire i nove raggruppamenti.